Anche Max con Cristina Di Pietro completa il suo team. Da randaggi della canzone li ho trasformati in un branco affamato di note. Ha messo su una vera e propria orchestra. Sono stata brava a sussurrare con la chitarra. A voci rock. Tribute band ma tipo... Igon Maiden, fantastico. Potenziali teen idol. Vieni con me perché io sono il pop. Voci dallo stile originale. Sei il centravanti che cercavano. Voci che portano messaggi di libertà. E una fan vera. Colleghi, attentissimi. Il team pezzale sta arrivando. Ve ne accorgerete quando l'asfalto comincerà a tremare. Grazie. Grazie.